Che stai facendo? Sto a fare riso Cosa maniamo? Maniamo questo qua dove lo mettiamo? Fuori Ma questo non c'ha nessun cattivo odore No Questo è perfetto Se vuoi mettiamo pure questo Sai perchè? Meglio perchè questa è la prima cosa che vado in mare e sopprendo No sono d'accordo ma l'ho comprati oggi Maniamo Se vuoi li faccio Vai Metti la frida No lo so Questo lo metto a parte Riso? Questo è il riso Il risotto Il risotto Lo metto a parte Dai Qui teniamo il pecorino Poi questo Comunoro Nel risotto Il risotto Questo Lo metto Il risotto Poi Lo metto Oggi c'è un pollo, c'è un pollo, c'è un pollo. Adesso. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti.